Se anche voi avete questa impressione, il politicamente corretto sta diventando politicamente di una noia terribile, mortale. Verrebbe proprio da dire così tenendo presente i bollettini di guerra che tutti i giorni, siamo l'unico paese, credo, nel mondo, abbiamo sul numero dei morti che ovviamente è in costante ascesa. Ora, perché faccio questa riflessione? Faccio questa riflessione perché se si leggono i giornali, se si guardano le televisioni, se si sentono le radio, sentiamo sempre esattamente ripetuta la stessa litania sul virus. Una vera e propria discussione, però critica sul virus, considerando tutti gli aspetti possibili che ci sono intorno al viso. Il virus che è una malattia sociale, non è una malattia privata, è una malattia sociale, sono praticamente impossibili. Io ho provato a scriverci un libro sopra, L'incubo di Foucault. Non ho voglia ora di parlarvi di questo libro, vi voglio dire semplicemente, ne ha parlato qualcuno di questo libro? No, assolutamente, qualche breve cenno, perché bisogna silenziare il dibattito e soprattutto sul virus deve esserci un'unica posizione. Beh, l'ha detto anche oggi il Presidente della Repubblica, sostegno assoluto al governo Conte. Ma non ce l'ha già abbastanza il sostegno assoluto, avendo tutte le televisioni e tutti i giornali a suo favore. E l'unica opposizione che in fondo vediamo dai tele... che non è soltanto quella, ma l'unica opposizione che vediamo è quella di Sgarbi, che quando interviene nel Parlamento fa quello che dovrebbe fare, a mio avviso, non soltanto lui. Ma in ogni caso, quello che voglio dire è che cos'è? Che praticamente oscurano in questo modo qualsiasi dibattito nel nostro Paese. Un vero e proprio dibattito sul virus non c'è, perché c'è una linea unica dominante e non si può sottoporre a critiche. E le critiche comunque non arrivano al punto. Neanche dal punto di vista giudiziario sto dicendo. Tante adesso la procura starà a indagare quello che succede in Sardegna per via delle discotette aperte d'estate. E nessuno, nessuno che prende in considerazione il fatto che adesso siamo sicuri, noi l'avevamo già scritto a giugno di quest'anno, ma adesso che siamo sicuri che la pandemia era già presente nel nostro Paese a settembre e da settembre a febbraio non si è fatto niente, non sarebbe il caso di indagare il governo invece di indagare Solinas? Mi domando? No, questo no. Di questo non si può parlare. Come non si può neanche parlare del fatto che cosa è successo da marzo con il rinnovo, il prolungamento dello stato di emergenza sino ad oggi? Non è successo niente. Da un primo lockdown passeremo prima o poi a un secondo lockdown. E tutto questo va bene. Tutto questo non può essere criticato. Perché? Perché il primum vivere. Ma che primum vivere se continuiamo a morire?